Si è spenta presso il Covid Hospital di Agropoli la 54enne di Caprioli di Pisciotta che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con un aggravamento delle condizioni di salute. La donna, che soffriva di altre patologie, era molto conosciuta nella cittadina rivierasca, insieme a marito gestiva un noto ristorante e pizzeria. Era una signora molto attiva, ricorda il sindaco Ettore Liguori, la sua scomparsa fa soffrire l'intera comunità. Era madre di due figli che militano rispettivamente nelle squadre di calcio Gelbison e comprensorio Terra del Mito. A Pisciotta la situazione epidemiologica è sotto controllo, i positivi al Covid sono meno di 15 e le scuole continuano a rimanere aperte. In tutti i comuni però si continuano a registrare gravi disagi nelle operazioni per l'accertamento dei contagiati e dei guariti, vista la crescita esponenziale di casi di positività. Tante le persone che decorsi i termini previsti non sono nelle condizioni di sottoporsi a tampone che ne certifichi l'avvenuta guarigione. Per far fronte a questa emergenza il sindaco di Monte San Giacomo, Angela D'Alto, con una lettera ha chiesto al presidente regionale e al direttore generale dell'ASL di consentire a farmacia e laboratori privati e medici di base disponibili di effettuare la verifica attraverso tampone antigenico. In questo modo, spiega D'Alto, si consentirebbe di liberare i pazienti in quarantena nei tempi previsti dalla normativa vigente. Intanto a Monte San Giacomo, dove i contagiati sarebbero circa 40, le scuole tornano in presenza. La riapertura è stata disposta dal sindaco dopo l'esito positivo dello screening volontario e gratuito che ha interessato la popolazione scolastica. L'80% si è sottoposta all'indagine ed è stato accertato un solo positivo al covid. Lo stesso tipo di screening ha coinvolto le scuole di Polla. Qui sono stati individuati otto contagiati che fanno salire a 83 il totale dei positivi e le scuole continuano a rimanere aperte, come ad Agropoli, dove si registrano 442 contagiati, a Montesano sulla Marcellana 120 e Centola 114. In salita i casi a Sapri sono arrivati a 146, in discesa a San Giovanni Appiro sono 41 e a Camerota l'aumento dei contagi ha spinto il sindaco a ordinare il ritorno alla DAD per tutte le scuole presenti sul suo territorio. 332 positivi a sala consiglina e scuole ancora aperte nonostante le contestazioni dei liceali. Questa è la situazione alle 14 di oggi negli altri comuni. A Santa Marina sarebbero oltre 85, Caggiano 69, Celle di Bulgaria 35, Alfano 37, Casellinpittari 25, Vivonati 16, Rufrano 15, Ispani 12, Casaletto Spartano 4.